Carabinieri e magistrati antimafia hanno sgominato un'associazione criminale dedita allo spaccio che operava tra Sessaorunca e Mondragone nella provincia di Caserta, 14 gli arresti. Due repinatori fanno in una tabaccheria diafragola e puntando una pistola al titolare svuotano la cassa e scappano all'uscita un carabiniere libero dal servizio li insegue e riesce a fermarli. Centennea di persone in piazza con il sindaco e il vescovo, la crescita dei costi dell'energia è immorale, gridano imprenditori, commercianti e famiglie, domani si replica a Davillino. Il comune di Benevento scende in campo per porre un freno ai consumi di energia, un giorno di smart working, meno illuminazione delle strade e fontane spente in anticipo, questo è il piano contro i rincari. Amministrazione comunale nel mirino di San Marzano sulla Sarno, in pochi giorni alle fiamme le auto del presidente del Consiglio Comunale, dell'assessore al commercio, indagano i carabinieri. Tre tifosi dell'Ajax feriti in due diversi agguati a Napoli, ragazzi armati di spranghe e coltelli, sono arrivati a bordo di scutere e sono fuggiti dopo i pestaggi. Dolori giudiziari, l'altra faccia di un sistema giustizia che non funziona, al sud 7 casi su 10, Napoli in testa con 100 casi all'anno, lo Stato spende prima per la detenzione e poi per risarcire il danno. L'espressione scolastica, il 16,5% dei ragazzi di Napoli e provincia evadono l'obbligo a fronte del 12% della media nazionale, due ragazzi su 10 non capiscono i testi scritti e non sanno la matematica. Il fumettista Zero Calcare ospita la Fondazione Focus per presentare e firmare la sua nuova graphic novel, lo Slip Till Schengel, centinaia di fan a Napoli. Ben ritrovati amici di Mondorelax, oggi siamo qui con un'offerta mai vista prima. Abbiamo realizzato la poltrona Italia, disponibile in diversi rivestimenti e colori a scelta. Approfittate dello sconto e avrete la poltrona Italia a soli 209 euro. Tutte le poltrona Mondorelax sono dotate di motori indipendenti, così potete alzare soltanto la pediera lasciando lo schienale dritto, oppure riposare nella posizione letto. Chiamateci subito! Mondorelax, garanzia di benessere e qualità. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Prima TV. Carabinieri magistrati e antimafia hanno sgominato un'associazione criminale detti dallo spaccio che operava tra Sessa Orunca e Mondragone. Nella provincia di Caserta, 14 le persone arrestate. Un'operazione dei carabinieri di Sessa Orunca in provincia di Caserta, messa segno alle prime luci dell'alba, ha portato all'arresto di 14 persone, accusate a bario titolo di associazione a delinquere finalizzata la detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare costituisce l'epilogo di una complessa ed intensa attività investigativa corroborata anche da intercettazioni telefoniche, ambientali, videoriprese e servizi dinamici resi particolarmente difficoltosi dall'utilizzo di distorsori vocali iniziata nel dicembre del 2018 dai carabinieri dell'aliquota operativa del norma della compagnia di Sessa Orunca coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le investigazioni hanno consentito di disarticolare un'associazione dedita al narcotraffico operante prevalentemente nei territori dei comuni di Sessa Orunca e Mondragone, nel Casertano, di individuarne i vertici e definirne i compiti e le funzioni. Il sodalizio era caratterizzato da una complessa organizzazione favorita dall'utilizzo di microtelefoni dedicati, di utenze fittiziamente intestate ad extra comunitari, di veicoli di una società di noleggio gestita per conto dell'organizzazione e da abitazioni predisposte per il confezionamento dello stupefacente da immettere in commercio. Si è accertato come i vertici dell'associazione con violenze e minacce hanno costretto alcuni assuntori ad acquistare lo stupefacente esclusivamente dal sodalizio. Sono state sequestrate oltre 500 dosi di stupefacente del tipo cocaina, crack, ascisce e marijuana, nonché denaro provento dell'attività illecita. Due rapinatori in una tabaccheria di Afragola appuntano una pistola al titolare e svuotano la cassa e scappano all'uscita. Un carabiniere libero dal servizio li insegue e riesce così a fermarli. Afragola via Dario Fiore. Sono quasi le 13 quando davanti a una tabaccheria dell'Interland napoletano si ferma un appuntato scelto dell'arma dei carabinieri. Il militare nella propria auto, libero dal servizio. A bordo di uno scooter arrivano due persone con casco integrale. La loro azione è velocissima. Pistole in pugno scendono dal mezzo ed entrano in tabaccheria. È una rapina. Avviene tutto davanti agli occhi del carabiniere che decide di intervenire. Il militare entra nel locale e urla carabinieri nel tentativo di far fuggire i malviventi. I due scappano dall'esercizio commerciale con i pochi soldi che sono riusciti a prendere e ancora armati salgono sullo scooter per fuggire. L'appuntato dei carabinieri li insegue e corre fino a raggiungerli riuscendo ad aggrapparsi al giubbino del passeggero. Il centauro perde il controllo dello scooter fino ad impattare su un'auto che arrivava dal senso opposto. I rapinatori cadono a terra ma subito si rialzano. Nasce una violenta colluttazione durante la quale partono due colpi d'arma da fuoco. Il rapinatore spara verso il militare. Fortunatamente la pistola è a salve. Il carabiniere non sa dell'inoffensività della pistola ma comunque non indietreggia e riesce a bloccare il malvivente. Il complice fugge a bordo dello scooter che risulterà rubato giorni fa ma i carabinieri di Castello di Cisterna sono sulle sue tracce. Indagini in corso anche per verificare l'eventuale coinvolgimento da parte dell'arrestato in altre rapine che si sono verificate nei giorni scorsi in quella zona. L'uomo, un quarantenne di Casoria, già noto alle forze dell'ordine, è stato medicato e ne avrà per dieci giorni. Anche il carabiniere sta bene per lui. Sette giorni di prognosi. Colpo grosso nel deposito di sigarette dei monopoli di Stato a Monteforte-Erpino. Questa notte è stato perpetrato un furto nel centro di stoccaggio tabacchi dei monopoli di Stato ubicato a Monteforte-Erpino in via Piano Alvanella. I malviventi penetrati nello stabile attraverso un foro praticato nel muro di un'edacente officina meccanica hanno asportato alcune scatole di sigarette verosimilmente disturbati dal nebbiogeno si sono dati alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri. Il bottino ammonta circa 48 mila euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Baiano. Centinaia di persone in piazza con il sindaco e il vescovo. La crescita dei costi d'energia è immorale. Gridano imprenditori, commercianti e famiglie. Domani si replica a Davillino. In questa piazza ci sono imprenditori, ci sono negozianti, ci sono insegnanti, ci sono davvero tutti, ci sono soprattutto le famiglie come abbiamo notato in particolare la presenza di tanti giovani. Abbiamo raccolto varie testimonianze, abbiamo visto bollette che vanno dai 4.000 ai 105.000 euro. Abbiamo raccolto la disperazione di queste persone che hanno ricevuto queste bollette. Alcuni non hanno intenzione di pagarle, o meglio, non hanno la possibilità di pagarle. In questo gesto estremo di arrivare a bruciare le bollette c'è tutta la disperazione di tante persone, di tanti di noi, perché questa è una situazione che ci tocca a tutti. E qua devono chiudere tutti e tante persone devono andarsene perché non si può più vivere. Infatti il rischio concreto è che più che mandare le bollette in fumo, qua si rischia di mandare in fumo i sacrifici di una vita. È vero, sì, questa è la cosa importante. I sacrifici della vita perché tu hai costruito una casa, hai costruito un futuro, hai costruito un lavoro e poi per una cosa del genere si deve chiudere tutto e si deve partire, si deve andare altrove perché non si può andare avanti. C'è tanta disperazione mentre vediamo la facciata del municipio di Ariano tappezzata di striscioni. Capitalismo e bollette fanno l'umanità affetta, si legge, non si spiegola sui beni comuni, ancora energia come bene comune. Il grido di Ariano è tutto qui, è tutto in piazza Plebiscito. Tanta gente è consapevole che con la manifestazione di oggi non si risolverà di certo il problema, però sono tutti convinti che è giunto il momento di far sentire la propria voce perché siamo di fronte ad una situazione praticamente insostenibile. Sono tanti a dire che da fine novembre sarà ancora peggio. Il comune di Benevento scende in campo per porre un freno ai consumi di energia, un giorno di smart working, meno illuminazione nelle strade e fontane spente in anticipo, questo il piano contro gli rincari. Risparmiare sui costi fissi legati alle utenze del comune di Benevento, ma anche continuare a garantire sicurezza e servizi ai cittadini, si muove su questo doppio binario l'azione amministrativa di Palazzo Musti. Il sindaco e gli assessori hanno avuto un vertice al quale hanno partecipato anche l'energy manager Attilio Renzulli, l'Unisannio, la società artistica e i dirigenti dei diversi settori, per iniziare ad approntare un piano operativo di razionalizzazione dei consumi e della spesa. Tra le prime misure ci sarà certamente l'accorpamento di alcuni uffici, l'introduzione, lo smart working il venerdì ed un maggiore contenimento dei costi per quanto riguarda le scuole. Inoltre, il segretario generale invierà una circolare ai dipendenti chiedendo di evitare l'accensione di stufe riscaldamente autonomi negli uffici. Si interverrà sull'illuminazione pubblica e monumentale ed anche sulle fontane cittadine che saranno chiuse. Una mossa che potrebbe far risparmiare a Palazzo Mosti non pochi euro. Secondo una prima stima, solo la fontana di Piazza Bissolati costa le casse comunali intorno ai 23.000 euro all'anno. Una nuova organizzazione è la macchina comunale che si rende necessaria a causa della fluttuazione dei costi con l'obiettivo di risparmiare al massimo. In settimana è previsto inoltre un incontro con il Tribunale dove le utenze sono ancora a carico del Comune e dove si spera di recuperare delle somme da far rientrare nel bilancio. Si parla di oltre 2 milioni di euro. Amministrazione comunale nel mirino a San Marzano sul Sarno. In pochi giorni date alle fiamme le auto del Presidente del Consiglio Comunale e dell'assessore al commercio, i carabinieri indagano su entrambi gli episodi. La scorsa notte un incendio ha distrutto l'auto dell'assessore al commercio del Comune di San Marzano sul Sarno, Angela Calabrese. Il veicolo era parcheggiato nel cortile di casa a Scafati insieme ad un altro, anche questo in gran parte distrutto dalle fiamme, domate dai vigili del fuoco. Sull'episodio indagano i carabinieri il reparto territoriale di Nocera Inferiore. 12 giorni fa era toccato a quella del Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Alfano che aveva denunciato l'incendio e la sua auto in via caduti per la patria, ferma il cortile di casa. L'incendio, che ha distrutto parte della Citroën dell'assessore, è avvenuto in via Nuo a San Marzano dove la 35enne risiede. I carabinieri intanto, dopo aver sentito la donna, hanno acquisito alcuni video delle telecamere di sicurezza dalle quali si noterebbe un uomo in fuga. Le auto avvolte alle fiamme hanno registrato danni sul lato anteriore. Sembra quasi certo per gli inquirenti poter escludere il guasto tecnico e propenderle per la pista dolusa. Quanto accaduto è stato commentato anche dal sindaco di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo. Questo ennesimo atto strano che capita ad un rappresentante e la mia maggioranza fa pensare può far leggere un campanello d'allarme. Non va sottovalutato. Si può pensare che a San Marzano sul Sarno stiano lavorando bene e questo può dare fastidio a qualcuno. Ma è tutto da vedere e capire. Per il momento non abbiamo nessuna risposta o certezza. Detto ciò abbiamo massima fiducia nelle forze dell'ordine che stanno lavorando senza sosta per chiarire quanto accaduto. Come amministrazione comunale andremo avanti a testa alta e continueremo a lavorare. Tre tifosi dell'Ajax feriti in due diversi agguati a Napoli. Ragazzi armati di spranghe e coltelli sono arrivati a bordo di scooter e sono fuggiti dopo i pestaggi. Una vera e propria caccia all'olandese è quella nel quale sono caduti alcuni tifosi dell'Ajax al termine della partita giocata fuori grotta contro il Napoli. A fine di un ospedale sono stati due ragazzi dai Paesi Bassi con un terzo medicato sul posto, tutti arrivati nel capoluogo partenopeo, per assistere alla partita e trascorrere qualche giorno in città. I tre sono stati aggrediti in due circostanze diverse tra mezzanotte e l'una. Per entrambi gli episodi indaga la compagnia dei carabinieri di Napoli centro. Già la notte prima del match si erano avuti cinque olandesi feriti in tutta la città. Stando le prime ricostruzioni, i due erano in Vico Santa Maria dell'Ajuto, in pieno centro storico, dove stavano rientrando in un bed and breakfast, quando un gruppo di ragazzi a bordo di scooter è arrivato sul posto circondandoli e aggredendoli con mazze e catene. I ragazzi provenienti dai Paesi Bassi hanno avuto così la peggio, finendo in ospedale al vecchio Pellegrini dove sono stati medicati. Un 36enne ha riportato contusioni, due ferite da taglio alla faccia e alla coscia destra, mentre un 32enne ha riportato qualche contusione e analogamente ferite da punta e da taglio alla faccia e alla coscia destra. Se la caveranno entrambi con sette giorni di prognosi. Non troppo distante dall'esterno del bar in via De Pretis, un altro gruppo di tifosi olandesi è stato aggredito in maniera simile da un gruppo di ragazzi giunti a bordo di scooter armati di spranghe e coltelli. Ad avere la peggio stavolta è stata una 33enne medicata sul posto per ferita la nuca dai sanitari del 118, ma che fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Non è escluso che gli autori delle aggressioni potessero essere gli stessi, indagano i carabinieri. Ed ora vi lascio una breve pausa, restate con noi a tra poco. Ben ritrovati per la seconda parte del telegiornale. Parliamo di errori giudiziari, l'altra faccia di un sistema che non funziona. Al sud sette casi su dieci, Napoli in testa con cento casi all'anno. Lo Stato spende prima per la detenzione e poi per risarcire il danno. Mille casi di errori giudiziari all'anno è l'altra faccia dell'emergenza del sistema giustizia. Il sindacato di polizia penitenziaria, prendendo spunto dalla decisione della quinta sezione penale della Corte di Milano, che ha colto l'istanza di risarcimento di giustizia a detenzione per un'accusa di omicidio, a causa della quale l'uomo in questione ha scontato ben 1.286 giorni di carcere pari a tre anni, ha reso nota la classifica degli errori giudiziari tra le città con il maggior numero di casi indennizzati. Sette su dieci sono al sud, con Napoli 101 casi. Nel 2020 con il record di cinque anni di ingiusto carcere, poi Reggio Calabria, Bari, Catanzaro. E nella graduatoria delle città, dove lo Stato ha preso di più in risarcimenti, ai primi tre posti ci sono Reggio Calabria, Palermo e Catanzaro. Solo lo scorso anno i casi di ingiustizia a detenzione sono stati 565 per una spesa complessiva in indennizi di cui è stata disposta la liquidazione pari a 24.500.000 euro. E' anche questa la prova provata dell'incapacità della politica di dare risposte ai problemi del sistema giudiziario e di quello penitenziario. Basterebbe prendere esempio dal Belgio, dove lo Stato spende in risarcimento circa 20 volte in meno dell'Italia. E' quanto sostiene il segretario generale della Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo che spera nell'impegno del nuovo governo e il nuovo Parlamento. Il colonnello Carlo Calcagni, vittima dell'uranio impoverito, ha fatto tappa d'Avellino per il suo tour per l'Italia in bicicletta con l'intento di lanciare un unico importante messaggio, non mollare mai. Per un obiettivo comune, quello di portare un messaggio, un messaggio anche di speranza e di rinascita, perché si può, insieme si può. Scortato da Montella dai ciclisti del ciclo amatori della bici da Tripalda e del cycling team di Mercogliano, ha fatto tappa anche ad Avellino nell'ambito del tour per la vita, alla del progetto, ma è a rendersi il colonnello Carlo Calcagni, vittima dell'uranio impoverito, atteso a Palazzo di Città, da sindaco Gianluca Pesta. L'ufficiale dell'esercito paracodutista, pilota e distruttore di volo, ammalato si metterà in missione di pace nei Balcani nel 1996, sta percorrendo lo stivale in bicicletta per consegnare un messaggio di speranza alle comunità. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare le istituzioni affinché siano sempre a fianco dei più deboli. Calcagni immagina chilometri di coraggio, nonostante in suo corpo siano stati rinvenuti 28 metalli pesanti, ogni giorno è costretto a sottoporsi a un serrato ritmo di terapie. Un'impressionante raffica di flebo, pillole e infiltrazioni quotidiane che non fermano la sua battaglia. Le istituzioni dovrebbero scendere tra le persone, soprattutto nelle zone di disagio, perché dove tutto funziona bene è facile, tutti possono andare e fare la loro parte, ma invece bisogna andare proprio nelle zone più disagiate e portare veramente un aiuto concreto e una speranza. E questo dovremmo farlo tutti, ad ogni livello, perché anche questo ha insegnato il lockdown. Dobbiamo condividere, è quello che io ho insegnato ai miei figli e che ai ragazzi nelle scuole lo recepiscono, è uno dei valori più importanti, il condividere. Quando ci sono difficoltà, chi ha qualcosa in più lo deve condividere con gli altri. Dispersione scolastica, il 16,5% dei ragazzi di Napoli e provincia evadono l'obbligo a fronte del 12% della media nazionale. Due ragazzi su 10 non capiscono i testi scritti e non sanno la matematica. Dispersione scolastica, un fenomeno che caratterizza in particolare le regioni del sud, ma che in Campania tocca percentuali da paura. I numeri più alti li collezionano Napoli e provincia, oltre il 16,5% dei ragazzi evade l'obbligo scolastico a fronte del 12% a livello nazionale. Un fenomeno che diventa critico, soprattutto nei quartieri a rischio, Soccavo, Ponticelli, Forcella, Centro Storico, ma non è tutto. Questo è un dato che riguarda l'evasione esplicita, quella implicita arriva quasi al 20%. Si tratta di studenti formalmente scolarizzati in possesso di un diploma, ma di fatto senza competenze. Non sanno comprendere un testo scritto, non hanno nozioni di matematica. La situazione è talmente grave che la prefettura di Napoli ha lanciato delle linee guida per combattere il fenomeno. La sfida è intervenire a priori, tracciare le criticità, senza approccio punitivo, ma con lo scopo di sottrarre da un lato forze nuove alla camorra, dall'altro molti bambini a situazioni limite e a maltrattamenti. I dirigenti scolastici, le municipalità e le parrocchie sono chiamati a compilare schere che restituiscono un quadro preciso e incrociato delle famiglie intorno alle quali ci sono giovani distanti, non solo formalmente dalla scuola. La prima segnalazione scatterà non appena lo studente avrà fatto 20 giorni di assenza e giungerà contemporaneamente al comune di competenza, all'ufficio scolastico regionale, alla prefettura e alla procura per i minori. Ai dirigenti scolastici è stata rappresentata la piattaforma dalla quale partiranno le segnalazioni. Dopo il primo alert sono previsti due successivi step finalizzati al recupero dello studente. Il fumettista zero calcare ospite alla Fondazione Focus per presentare e firmare la sua nuova graphic novel, No Sleep Till Schengel, centinaia di fan a Napoli. Dopo Coban Calling, il racconto militante e generazionale di zero calcare dedicato ai popoli oppressi approda la Fondazione Focus dei quartieri spagnoli, in un evento organizzato da Filtrinelli. Ad attendere il pluripremiato fumettista romano, il suo ultimo lavoro pubblicato dalla Baopublishing e dedicato alla popolazione degli ezidi, schiacciata tra ISIS, governo iracheno e turco. Ci sono centinaia di giovani provenienti da tutto il sud. I pischelli dappertutto, non necessariamente a Napoli, sono molto più curiosi di come li rappresentiamo. Nel senso che in realtà mi sembliano persone, almeno quelli che ho visto adesso, pure anche super giovani, che però a cui interessa, l'ultimo libro parla della guerra in Siria, nel nord dell'Irak, quindi apparentemente cose da cui sono lontanissimi. Poi in realtà mi fanno un sacco di domande, sono interessati, quindi mi sembra meglio di come la raccontiamo. Il rapporto di zero calcare con Napoli parte da lontano. Era in città per il conferimento della cittadinanza onoraria ad Apo Ocalan, il leader del partito dei lavoratori curdi. Iannapoli ha ambientato anche un racconto. Ai giovani napolitani dice, imparate a raccontarvi per non rimanere schiacciati da false rappresentazioni. In realtà io l'unica cosa che ho ambientato a Napoli è stato il racconto di una storia di Napoli, peraltro una storia che c'entra anche molto in questo quartiere, che è la cosa uscita per l'essenziale sulla morte di Ugo Russo. Non so, un prete che è capace a dare messaggi alle persone. In generale l'unica cosa che mi viene in mente è di imparare a raccontarsi, perché in generale quando queste realtà vengono raccontate da altri i racconti sono pieni di stereotipi, sono pieni di stigmatizzazioni, insomma di cose che poi non rendono giustizia a questi posti. Quindi se uno impara a raccontare da solo la propria realtà è un servizio che fa a se stesso e alla propria comunità. Un incontro appassionato durato più di cinque ore tra firma copie e presentazione, molto atteso anche dal direttore di Focus Renato Quaglia. Grazie a Feltrinelli continuiamo ad ospitare figure che ci raccontano il contemporaneo e il nostro presente. Zero Calcare è un pezzo di inquietudine che parla una generazione e trova un linguaggio e uno stile davvero straordinari. E questo era l'ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio allo sport. Arrivederci. Grazie a Feltrinelli.